Almeno 15 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite in un attacco multiplo imputato a Boko Haram, alla periferia di Maoduguri, in Nigeria. Secondo l'agenzia nigeriana NAN, diversi kamikaze con corpetti esplosivi si sono fatti esplodere fra la gente, dopodiché sono intervenuti altri terroristi con armi da fuoco. L'attentato arriva mentre sono in corso negoziati tra i terroristi e il governo per arrivare ad una tregua, negoziati resi pubblici dal governo nigeriano otto giorni fa.